Nessuno deve essere lasciato solo. Con questo spirito lo sportello creato da Prefettura di Pescara, Camera di Commercio di Chieti Pescara, abi e ordini professionali. Si prefigge di dare un aiuto professionale di consulenza economico-finanziaria, legale e di supporto psicologico a quanti non hanno accesso a consulenze specialistiche dedicate, fornendo informazioni e orientamento per inquadrare le situazioni di difficoltà e i fattori determinanti, informando anche correttamente su strumenti, procedure e opportunità, indirizzando nell'espletamento delle procedure presso gli enti pubblici e gli istituti di credito, offrendo anche il primo sostegno psicologico nell'emergenza per affrontare una situazione di crisi, creando sinergie con altre realtà che possono offrire supporto. Questo progetto nasce da un'idea di sua eccellenza il Prefetto di Pescara, che poi ha trovato l'appoggio totale della Camera di Commercio di Chieti Pescara, perché è un progetto interessante in un momento così difficile per la società civile e imprenditoriale, è uno sportello che ha lo spirito di dare un contributo di consulenze a chi ne dovesse aver bisogno in questo particolare momento. L'idea qual è? Quella di dare appunto un supporto informativo, lo sportello non elargirà risorse, ma dare un supporto informativo su diversi aspetti che possono essere utili per i cittadini che si trovano in difficoltà. La finalità è quella di prevenire ovviamente fenomeni usurari e comunque distorsivi dell'economia legale. Nel momento di difficoltà bisogna fare rete, la coesione sociale è la forza che ci può dare una spinta per uscire meglio da questo momento difficile.